Cambiamenti radicali non ne ho trovati, mi sto allenando bene con il mio allenatore Gianni Ponzanibbio, tutto a posto e vediamo come andrà l'anno prossimo, anche se spero comunque che sia un anno migliore di questo sempre. Il costume Carbon Ultra Italia è un costume con cui mi trovo bene, è stretto e comprime nelle zone giuste. Il progetto di Arena Sum Your Best mi ha aiutato molto ad allenarmi, anche perché si è creata una sorta di competizione tra tutti i partecipanti, quindi c'è sempre voglia di mettersi in primo piano e questo sicuramente ha influito molto sugli allenamenti e sulla loro intensità. Penso di avere le carte in regola per essere il vincitore, però ci tengo a sottolineare che comunque è molto dura, tutti gli altri sono atleti molto forti, molto preparati, però comunque penso di avere le carte in regola. Grazie. Grazie a tutti.